hai tre superman e due batsman ma guarda un po però attento 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 ciao a tutti da piccolino guardate cosa abbiamo qui un sacco di sorpresine hai rotto pure il martello quante sorprese hai dai vediamo cosa si trova lì le cose che non ti servono buttali qui nel contenitore mamma pig sei non abbiamo batman chi è? si è nemo guarda che cosa bella guarda ma cerca un'altra cosa guarda provetta Kinder guarda la macchina qua l'hai trovato che bella collezione Kinder Kinder è uno è uno tedeschi e uno guai guarda qui un altro superman ma guarda un po E questo chi è? Super Mario Guarda un po' Super Mario Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa Si dice mangi troppo Non metta mai il cappotto Che con i denti punga E molto spesso pianga Però quando è tranquillo Come fa sto coccodrillo? Guarda i due coccodrilli Ci sono due coccodrilli Ed uno rango tango Due piccoli serpenti Un'aquila reale Un gatto un topo un elefante Non manca più nessuno Solo non si vedono I due locorni La tua canzoncina preferita Guarda la buffetta La buffetta La buffetta Cos'altro c'è? Guarda il drago Che si mette sul dito Così fa Quello cos'è? Kung fu panda Kung fu panda Oddio Squishy È rotta Attenso Attenso Bu C'è qualcuno? Non c'è Non c'è? E allora Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao 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 Grazie a tutti. 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 Io avevo fatto una macchinina con Victor e invece adesso non mi ricordo più come si fa. Quindi inventatela tu. No, non inventi tu. No, non si dicono queste parole. No, non si dicono queste parole. No, ma tutti i due pezzi. No, non si dicono. Iscrivetevi e guardatevi. Iscrivetevi e guardate gli altri video. Ciao, ciao!